Non sono palloniero statici questi. C'è un cazzo compagniare. Non sono palloniero statici questi, Dio caro. Iuffi. Sono i formaggiari. Ma stai scherzando? Sono troppo i formaggiari. E ce n'è un altissimo, guarda. Cioè... Ma cosa cazzo sono? Dio Dio! Non ci posso credere! Ma non ci posso credere! Sono uffi! Madonna santa! Scusa, eh! Ci sono anche guassani che fanno riprendere qua. Mi stiamo scherzando qua. Ci sono troppo uffi! Mio Dio! Fossero solo quattro! Cazzo, guarda adesso! Ma stiamo scherzando! E ce n'era un quinto che è scomparso, eh! Nemmeno a dire che... Cazzo, ragazzo mio! Ma stai troppo scherzando! Ma scusami, adesso... Cioè, a me va bene tutto, però... Io sarò partito di X-Files. Però... Una madonna buona! Ce ne sanno anche di parapendio, eh! Tutto quello che vuoi! Quali? No! No! No, li zoomo sì, ma non vedo un cazzo! Non vedo! Sono troppo alti per essere qualsiasi cosa! Sono troppo regolari come moto! Troppo lenti! Lenti, regolari, sono in formazione! Bu... Maria Verge! Non è andato! E dove sono scomparso adesso? Secondo che è andato! È andato? Ma cos'era, no? Ma eri? Che cazzo sono? Che cazzo sono? Via! L'altro l'asuna, l'altro! Scomparso!